Anche gli Shadow cedono. Certo, tutti quanti cedono. Se la Shadow non ha raggiunto Milena, chi è stato? Price e i suoi amichetti reali. Insieme alla Shadow. Ti assicuro che il loro rapporto è puramente commerciale. Dobbiamo agire in base alle informazioni ottenute dal prigioniero. Lasci fare a me. No, tu mi servi qui. Divide e timpera. Se hanno trovato Milena, troveranno noi. E lei pensa che sappiano altro? Sì, ma assicurati del contrario. Se verranno, saremo pronti. Voglio che tutti sappiano che non ci fermeremo davanti a nessuno. Uomo, donna o bambino. È chiaro? Sì, chiarissimo. Se il nostro amico della Shadow ci ha detto la verità, tu sarai il primo a sapere. Ti ha mentito! Allora ammazzano. Romanova ha parlato. Come? Interrogatorio finanziario avanzato. Le informazioni erano buone. Ora sono nostre. Ti abbiamo di perseguibile. Un'azienda fittizia della Romanova ha acquistato un complesso abitativo abbandonato a San Pietroburgo per il gruppo Connie. Quando? Di recente. Un avamposto di Connie? Credo anch'io, capitano. Ho trovato l'edificio. Il satellite mostra un pallone di recupero sul tetto. Può essere lì solo per rimuovere qualcosa che vogliono nascondere. O qualcuno. Il complesso è un labirinto di piani. Gas passerà dal basso. Io coprirò dal tetto. Per l'estrazione? Niente elicotteri. Prendete ciò che vi sembra interessante e Nick vi tirerà fuori. Il pallone. Skyhawk. Se Makarov è lì, prendetelo. Sei a Watcher, il drone è in volo. Dovreste avere la visuale. Ok, confermo. Diverse troppe di Connie sul tetto dell'edificio Nord. Nessun segno di Makarov. Chi è il nostro amico Nervosetto? Sembra lui al comando. Vediamo un po' se riesco a identificarlo. Ricevuto. Gas, sei in posizione? Bene. Vediamo chi e cosa troviamo qui. Non tornate a mani vuote. Watcher, chiudo. Affermativo. Sono pronto. Avanza, Gas. Fammi sapere quando sei all'ascensore. Ok. Mi muovo. Capitano, sono all'ascensore. C'è una scala. Ricevuto. Usala. Bravo. Ho identificato il bersaglio. Andrei Nolan. Era nell'inner circle di Makarov. Ha un ruolo importante nelle gerarchie di Connie. Uno con cui mi piacerebbe fare una chiacchierata. Prima io. Lasciamene un pezzo. Ora il tuo bersaglio è Nolan. Catturalo e portalo via. Ricevuto. Vedo il movimento sul tuo piano. Sanno dove ti trovi, sergente. Preparati al contatto. Allerta, Gas. Ti stanno cercando dappertutto. Nemici. Stanno scendendo dalle scale. Ti stanno cercando, Gas. Guardati le spalle. Scendendo. Aspetta. Scendendo. Scendendo. Aspetta. Orchi aperti, Gas. Conniti braca. non abbassare la guardia sergente connie sulle tue tracce salgo al sesto piano sei a metà strada il 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 la il il Grazie per la visione! Mi sposto all'esterno della struttura. Attenzione, ragazzi. Soldati di coni in pattuglia vicino a te. Sì, 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 sì. le scale sono bloccate trova un altro modo per salire trovate un visore notturno deve esserci altro equipaggiamento di coni e ben finanziato alla prossima Strada panoramica. Sono meticoloso io. Il tempo scorre. Sto salendo al quinto piano. Ci sono ancora parecchi coni da superare. Sesto piano. Sei a metà strada, Gaz. Avanzo al settimo piano. Continua ad avanzare. Nolan ha avvisato i suoi, sanno della tua presenza. Ti danno la caccia, Gaz. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pericolo a sinistra, Garry. Pericolo a sinistra, Garry. Pericolo a sinistra, Garry. Pericolo a sinistra. Pericolo a sinistra, Garry. Pericolo a sinistra, Garry. Pericolo a sinistra. Pericolo a sinistra. No, no. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info C'è una scorciatoia Uno sopra di te, Gas Grazie del supporto Ok Gas, sei quasi al tetto, aspettati molta resistenza Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Perciò Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Fai attenzione, Claymore. Fai attenzione, Claymore. Fai attenzione, Claymore. Bel colpo, capitano. Ricevuto, arrivo, Gus. Ho trovato una fune di risalita. Sarà meno faticoso. Avanzo al mondo. Tu sei quasi, Gus. Tu sei quasi, Gus. Spara a tutto ciò che si muove, ma Nolan ci serve vivo. Ok. Ecco Nolan. Attenzione, capitano. È fortemente colazzato. Ok, spara per neutralizzarlo, quel bastardo. Non ucciderlo. Non vuoi stare presto, scusate. No. 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 No 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 Vedo Andrei Nolan, il braccio destro di Makarov, è a terra Gas, vai e prendilo, se è ancora vivo è ancora pericoloso Eccoti qui Uccidimi, non ti aiuterò Dicono tutti così Vedo la sua bocca che si muove, fallo tacere Gas, elicotteri nemici diretti verso il tetto Bravo a Watcher, bersaglio prelevato, siamo pronti all'estrazione Ok, Yankee in arrivo tra due minuti, pronti per lo Skyhook Ricevuto Speriamo che ci battino i colpi per tenermi a bada Bisogna davvero riprendersi il loro caldo Se lo scori Sperito Spread Sperito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.